E' stato detto che il tema era il tema remare, francamente ho sorriso perché c'è poco da fare nel bene o nel male la vita sa sempre sorprenderci e non avrei mai immaginato che mi sarebbe stata data la possibilità di parlare di tutte quante le remate controcorrente fatte in questi ultimi 22 anni, perché per fare ricerca bisogna remare controcorrente e resistere. Io mi chiamo Francesco Marampon, ho 43 anni, sono un medico e sono specializzato in radioterapia oncologica, in altre parole mi occupo di curare i tumori utilizzando le radiazioni ionizzanti. Sono abruzzese da tozione, da 22 anni vivo all'Aquila, ho sposato una donna di Ortona per cui la cittadinanza la merito tutta. Ho una passione, quella di parlare con le cellule, perché che voi lo sappiate o meno, le cellule parlano. Utilizzano un linguaggio molto complicato, un linguaggio molecolare, che ha un ruolo essenziale, cioè nella cellula normale mantiene il funzionamento dei tessuti, in quella patologica, ad esempio in quella neoplastica, ne garantisce la proliferazione incontrollata, la capacità di metastatizzare e di non rispondere alle terapie. La cosa ancora più interessante è che ogni tumore ha un suo linguaggio alterato e che è stato recentemente scoperto che all'interno di uno stesso tumore esiste una piccola sottopopolazione di cellule, che prende il nome di cellule staminali cancerose, che sono le reali responsabili della crescita del tumore, che hanno un linguaggio tutto loro. Cosa peggiore, pazienti con la stessa neoplasia hanno cellule staminali che possono utilizzare linguaggi completamente differenti. Io negli ultimi 22 anni ho tentato di parlare con il rabdomiosarcoma, che è un tumore abbastanza raro, ma è il più frequente tumore dei tessuti molli in soggetti d'età pediatrica. E vi racconto questi 22 anni in quattro capitoli. Il primo l'ho intitolato Imparare a remare controcorrente. Quando sei giovane hai una potenza che è impressionante, se hai passione, se hai il sacro fuoco si chiama, puoi fare quello che vuoi. Io ho avuto la fortuna di entrare in un laboratorio di persone che davano spazio ai giovani, lasciavano pensare, con un limite. Questo laboratorio aveva pochissimi soldi. Ora, quando si parla di ricerca si parla sempre di soldi. Se hai pochi soldi non puoi fare ricerca. Non è vero. Ci sono sempre delle vie collaterali che magari rendono molto più lento l'ottenimento del dato, ma è possibile. E così, molto brevemente, noi siamo i primi a scoprire che le rabdomiosarcoma utilizzano un linguaggio particolare per sopravvivere. A volte la ricerca è come il vino rosso in botte, migliora dopo tanti anni. Ed è proprio quest'anno che in America sono stati presentati i primi dati sull'utilizzo di un farmaco che distrugge questo linguaggio, che sta migliorando la sopravvivenza dei pazienti affetti da rabdomiosarcoma pediatrico. Ora, è talmente tanta la passione che pur non avendo soldi, noi dimostriamo che questo linguaggio permette l'accumulo di una proteina. Questa è una proteina pirata, si chiama CMYC, fa quello che vuole all'interno della cellula. Bisogna distruggerla. Beh, qui servono soldi, noi non ne abbiamo. L'unica soluzione è la solida, quella che abbiamo sentito tante volte anche in televisione, emigrare, andare in America. In America l'acqua non è calma come qui, il livello di competizione è nettamente più elevato, ma poco importa. Se hai voglia di lavorare, sono talmente tante le risorse che i risultati arrivano. Ora, del capitolo americano, io non vi voglio parlare da un punto di vista scientifico, a me quello che ha colpito è stato la possibilità di vedere il nostro paese da un balcone distante, quindi di apprezzarne le potenzialità, ma anche di sottolinearne i criticismi. Ho conosciuto tantissimi di quelli che comunemente sentiamo parlare ed essere chiamati cervelli in fuga e che invece a me piace chiamare cervelli messi in fuga, che è una cosa completamente differente. Ma in America ho la fortuna di conoscere, di approfondire la radioterapia. La radioterapia è la disciplina medica che ha subito negli ultimi vent'anni l'evoluzione maggiore. Oggi esistono delle macchine che sono in grado di colpire un piccolo tumore con una potenza pazzesca, risparmiando i tessuti sani. Solo che ci sono alcuni tumori, come i rabdomiosarcomi, che tendono a sfuggire perché probabilmente utilizzano un linguaggio che ne garantisce la radioresistenza. Da dieci anni esiste una linea di ricerca che cerca di capire questo linguaggio. Bene, è l'occasione per tornare in Italia, perché io voglio tornare in Italia nel mio paese, mettere su un laboratorio che studi questo meccanismo. E qui si apre il capitolo peggiore di tutta quanta questa storia. Probabilmente voi ricorderete queste immagini. Sono le 3.32 del Serrile, del 2009, il terremoto colpisce l'Aquila. Si scappa da casa, con mia moglie tentiamo di prendere le scale, ma le scale non ci sono, quantomeno non si vedono, si accende una sorta di lampada. Ricordo, le scale c'erano, si erano staccate dal muro. Andiamo in ospedale, lì lavoriamo, conosciamo le persone, facciamo entrambe la specializzazione. Si monta in macchina, la macchina era finita in una specie di burrone, c'è una strana nebbia, l'Aquila, poi la nebbia non era la nebbia, era la polvere che avevano alzate le macerie. Ebbene, non importa, andiamo in ospedale, aiutiamo, primo giorno, secondo giorno, a un certo punto torna in mente il laboratorio. Che fine avrà fatto? È inutile. Troppe persone in questi anni ti hanno detto che è difficile fare ricerca scientifica in Italia. Un evento del genere mette un punto. Ma poi ci penso e dico, ma cavolo, ci sono persone che col terremoto hanno perso molto più di un laboratorio. E allora vale la pena tornare, prendere i piccoli pezzettini, ma stavolta i pezzettini sono troppo pochi, i soldi non ci sono, non si riparte. A un certo punto viene un'idea. Le case farmaceutiche in America richiedevano un service dove lavoravo, e cioè ti chiedevano di fare degli esperimenti per testare se un eventuale farmaco avesse una potenzialità come trattamento antineoplastico. Proponiamo il nostro laboratorio, ma a un prezzo nettamente inferiore. Semplicemente perché? Perché non chiediamo di essere pagati come persone, ma solo il materiale. Il laboratorio riparte. Collaboriamo con moltissime case farmaceutiche, ma ecco l'ennesima difficoltà. Purtroppo la scuola di specializzazione finisce. Quando finisce una scuola di specializzazione, per un medico c'è solo un percorso da fare, quello di tentare i concorsi, andare a lavorare per la specializzazione per cui si è studiato. Questo per me voleva dire andare via dall'Abruzzo, andare via dall'Aquila, chiudere definitivamente il laboratorio. Il problema è che in quel laboratorio stavamo crescendo tre persone, tre giovani, con una voglia pazzesca. Per cui decido di scommettere nuovamente e faccio una cosa che nessun medico, pochi medici disperati fanno. All'inizio vado a lavorare in un carcere. All'Aquila c'è il carcere più grande, credo, d'Europa, con regime 41 bis. È un'esperienza surreale perché conosco tutti quanti quei personaggi che oggi dominano le fiction o di quali si sente parlare nei telegiornali. Sette anni, non sono stati pochi. E parallelamente lavoro in un hospice, che forse è stata l'esperienza più importante, perché in hospice tu conosci i pazienti dove la terapia è fallita. Quindi il fallimento della terapia c'è e va contrastato. E solo la ricerca scientifica può farla. In questo periodo, con molta difficoltà, siamo i primi al mondo a isolare le cellule staminali di rabdomiosarcoma. L'ultimo capitolo. Spesso diciamo che è sbagliato guardarsi indietro. Secondo me non è così. Mantenere la marcia sì, ma girarsi ogni tanto, voltarsi e rendersi conto che si è costruito qualcosa non è sbagliato. Io metto insieme tutto e propongo a varie università la mia figura. Bene, di pochi giorni fa la presa di una posizione in sapienza, ma soprattutto è di pochi giorni fa una notizia ancora più importante, se vogliamo. In questi 22 anni abbiamo speso tantissime energie e tantissimi soldi nel costruire un modello per lo studio della radioresistenza nel rabdomiosarcoma. Questo è il primo modello al mondo. Intorno a questo modello costruiamo un progetto. Scrivere un progetto è la cosa più complicata che si può fare, almeno per chi fa ricerca scientifica. Lo sottoponiamo all'Associazione Italiana per la ricerca contro il cancro e questo progetto è stato finanziato con quasi 800.000 euro per un periodo di circa 5 anni. Io ho terminato. Voglio lasciare tre messaggi. Il primo, da soli non si fa nulla. È impossibile, specialmente nella ricerca scientifica, ma credo in qualsiasi cosa nella vita. Questo è un network di persone che ho costruito negli ultimi 10-15 anni e con cui lavoro benissimo. Secondo messaggio, che fa riferimento a Charles Darwin. Sono 100 anni e 100 anni e 100 anni che viene mandato sempre lo stesso messaggio. I giovani d'oggi non servono a nulla. È un messaggio sbagliato. Le generazioni andando avanti non fanno altro che migliorare. Dico ai giovani, non fatevi fregare. Se potete, correte i vostri rischi, conquistate le vostre paure e remate, remate, remate. Infine, chi ha deciso di fare il mio lavoro, lo lascio e spesso chi fa il mio lavoro decide di abbandonare tutto, lascio un proverbio cinese che dice imparare è come remare controcorrente. Appena smetti, torni indietro. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.